Monferrato Web TV, partner del Monfragis Fest, vi porta negli angoli più insoliti del territorio. Ci troviamo infatti all'eremo di Moncucco, a Odalingo Grande, per l'ultimo concerto del mese di giugno del nostro festival. Si ascolteranno atmosfere molto particolari con Anaïs Drago che ci propone i suoi minotauri a selezionare Anaïs per il nostro festival. Ancora una volta il nostro staff e la presidente Ima Ganor. Pensare ad Anaïs, alla sua musica e al suo progetto all'interno di questo bosco, soprattutto dove spicca un eremo, mi sembrava proprio il luogo perfetto dove in qualche maniera si chiudeva un ciclo. Quindi questo progetto solitudo che in qualche maniera si rifà al remitaggio che ha vissuto questo bosco e soprattutto un legno che risuona in mezzo ai legni. E poi questi minotauri, queste figure che entrano e escono dal tuo spettacolo, mi sembrava proprio una cosa bellissima da proporre all'interno del nostro festival jazz. Quindi ti chiedo, hai già suonato in un bosco? Dunque, ho già suonato in un bosco. Mi dispiace non potervi dare il primato, ma sono ugualmente felice di essere qua. E soprattutto non ho mai suonato in un bosco con un eremo, quindi comunque il primato dell'eremo lo lascio a voi. E hai citato giustamente Solitudo, che è questo mio lavoro discografico in solo, uscito ormai quasi tre anni fa, di cui Minotauri, che è il concerto che presento oggi, è la necessaria e naturale conseguenza e che, come dici bene, penso risuonerà bene in questi luoghi di bosco e di legno. Allora, continuate a seguire il nostro festival, Monfragia Jazz Fest, fino al mese di settembre con voi, settima edizione seguita da Monferrato Web TV.